Un forte boato ha spezzato stanotte il sonno dei vittoriesi. Erano circa le tre quando una bomba rudimentale ha innescato una violentissima esplosione in via Generale Cascino all'angolo con via Rizza a pochi metri dalla centralissima Piazza Italia. Tremenda la scena che si è presentata agli occhi delle forze dell'ordine e dei residenti accorsi dopo aver lanciato l'allarme. Squarciata la saracinesca del negozio di autoricambi di proprietà di due fratelli commisani, danneggiate due auto parcheggiate a poca distanza e altre due saracinesche di altrettanti locali commerciali. Ovunque pezzi di ferro, schegge metalliche, componenti di una bomboletta di gas. Frammenti anche a distanza di 50 metri nei pressi di un'altra attività commerciale. Qui gli agenti hanno rinvenuto addirittura una scheggia di ben 10 centimetri. Elemento questo che lascia intuire come l'ordigno, seppur rudimentale, fosse davvero molto pericoloso e solo per pura fortuna qualcuno non è rimasto coinvolto nell'esplosione. Sul posto immediato è stato l'intervento degli agenti del commissariato di polizia di Vittoria e della polizia scientifica che da quel momento lavorano senza sosta per ricostruire il drammatico accaduto. Si è reso necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco di Vittoria, ma solo perché una delle due auto danneggiate perdeva gasolio dal negozio. Infatti non si sono sprigionate fiamme. Si profila ovviamente un chiaro attentato intimidatorio, ma sulle piste da seguire il dirigente del commissariato di polizia, Rosario Amaru, al momento non lascia trapelare nulla. Già stamattina sono iniziati gli interrogatori dei titolari del negozio.